L'Anchalon-sur-Saon vs Alba Berling era una battaglia per le quattro piacere in gruppo B e i germani avevano avuto un vinto cruciale grazie all'efforto dei loro bambini. In effetti, nel match di balance fino alla ultima quattro Zack Morley e Deon Thompson avvengono il visito in quattro quattro. Poi, Yasin Ibiti, led on defense and offense in questa seconda round che era il punto del giro del giro. E' per questo che i Alba's big men sono i nostri knight in Otta Ball.